Grande soddisfazione per l'organizzazione in questa tappa di debutto del Coca-Cola Pizza Village e Tom a Palermo, un grande successo. Pronti via al nastro di partenza, un successo al di là di ogni aspettativa, davvero Palermo si conferma una piazza che accoglie a braccia apertissime il Pizza Village e Tom. Con Coca-Cola parte da qui il Giro d'Italia che ci vedrà fare tappa prossimamente a Padova, Bologna, poi la chiusura a Milano, passando ovviamente per l'evento live a Napoli a giugno. Ad animare la prima tappa del Coca-Cola Pizza Village e Tom a Palermo sono stati chiaramente i protagonisti, ovvero i pizzaioli. Ognuno di loro ha interpretato la pizza di battaglia ma soprattutto la margherita. Segreto i loro ingredienti. Io sono Paolo Pancia, il pizzaiolo dell'antica pizzeria da Michele, Michele Induordo, oramai siamo in tutto il mondo e io scelgo il fior di latte perché il fior di latte è l'ingrediente che rende la nostra pizza napoletana a Rode Carrette unica al mondo, l'oro bianco, il fior di latte della latteria. Sono Davide Segreto, appartengo al gruppo di rosso pomodoro, utilizziamo il pomodoro ciao perché è tra i più dolci e i più buoni del pomodoro scelto dai migliori pizzaioli italiani. Le Borboa e Nunzio Billi, la farina è il cuore e l'anima della pizza, per questo ho scelto una caputo 100% italiana senza insinio. Sono Ron Garofalo, la pizzeria Mistral di Palermo da 40 anni. Ingredienti, la pizza, convivialità, i prodotti, pomodoro mozzarella e farina per fare un'ottima pizza di qualità che unisce il mondo.